ottima prestazione da parte delle due difese finita 0-0 poche opportunità per gli attaccanti e tu cosa ne pensi della partita Luca? ma entrambe le squadre si sono giocate la gara secondo le loro possibilità di questo momento poi è chiaro il risultato lo determinano anche gli episodi oggi è andata così non ci resta più molto tempo un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani grazie Fabio alla prossima grazie grazie grazie